Hanno approfittato dell'assenza del proprietario per scassinare sabato pomeriggio la porta di ingresso di un appartamento in via Gentile a portare via eventuali preziosi e denaro. Un tentativo finito male visto che i ladri, tre giovani di 19, 34 e 21 anni, sono stati sorpresi dai poliziotti della sezione volanti, allertati da una telefonata anonima giunta alla sala operativa della Questura. Bloccati i tre giovani sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per tentato furto in concorso e posti ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sempre sabato e intorno alle due del mattino i poliziotti nel corso dei controlli disposti dal questore Bruno Megale per contrastare i furti nelle zone periferiche della città hanno rinvenuto al chilometro 7 della strada provinciale 1 a Caltanissetta d'Elia, nelle vicinanze di un casolare abbandonato, un'auto. Dai controlli la Peugeot 206 1100, nascosta tra la vegetazione, risultata rubata nella notte tra il 4 e il 5 agosto a Favara. Dai gnoti che, dopo aver rafforzato il cancello dell'abitazione di campagna della vittima, sono fuggiti con l'auto lasciata con le chiavi inserite nel quadro accensione, così come risultato dalla denuncia presentata ai carabinieri del posto. Dopo i rilievi della polizia scientifica, l'auto è stata restituita al legittimo proprietario. Proseguono intanto le intagini della squadra mobile di Caltanissetta. Un vasto incendio nelle campagne che costeggiano la strada statale 640 nelle vicinanze di Grotta Rossa ha invece tenuto impegnati sabato per oltre due ore i vigili del fuoco e gli uomini della forestale. Il traffico sulla stradale a causa del fumo, che si è sprigionato, ha subito dei rallentamenti. È stato riaperto domenica pomeriggio il tratto dell'autostrada 19 Palermo-Catania nel territorio comunale di Paternò, chiuso in direzione Palermo, per permettere il recupero di un mezzo pesante ribaltatosi autonomamente precipitato nella scarpata sottostante nella giornata di sabato. Un'auto articolato, infatti, che trasportava alimenti per cause ancora in corso di accertamento al chilometro 163 nelle vicinanze di Centuripe, è uscito fuori strade dopo aver distrutto il guardrail e precipitato nella scarpata. I lesi il camionista di 39 anni e il figlio di 12 anni, che si trovavano a bordo del mezzo, che hanno riportato qualche lieve ferita. Sul posto, oltre all'elisoccorso del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale ANAS e la polizia stradale di Enna per i rilievi.